La vita di Nicolò Antonio Il piatto Anatra all'arancia Dieci elaborati in competizione tra primi e secondi e dal termine sul podio sono andati Maria Angelucci con cappone ripieno e Fernando Di Iorio con pecora alla callara, due piatti storici La commissione è composta da esperti del settore come gli accademici della cucina Giuseppe Di Giovacchino e Vincenzo D'Antuono e note figure del settore come Franca Minucci, Marzio Ciminolan, Franco D'Alessio Franca Terra e Andrea Silvestrone ha segnato altri riconoscimenti a Sara Campanelli con la mugnaia e ad Ada Di Berardino con spezzatino e sformato di patate Sono stati apprezzati in modo specifico anche gli altri preparati di Stefania Nebuloso con la fracchiata Giovanni Cirillo con le virtù Maria Tamaglio con timballo di scrippelle Rolando Pennese con spaghetti scivola scivola e Tina Rocciola con flan di zucca e cicorietta saltata in padella La manifestazione poi si è conclusa con le sfogliatelle della ex campionessa italiana Maria Elena Lupinetti e la degustazione del panettone artigianale della gelateria 490 di Montesilvano I piatti in gara sono stati abbinati ai selezionati vini delle cantine Char e Costantini di Città Sant'Angelo Tutti i concorrenti poi sono stati omaggiati con i prodotti del pastificio La Mugnaia e dell'oleificio De Massis di Elice Non mi aspettavo di vincere perché il livello dei piatti era davvero molto interessante ed elevato ha riferito alla fine Rita Di Nicolantonio Mi sono divertita tanto ed è stata una serata davvero speciale che ricorderò per sempre Accademia Italiana della Cucina Sessione Pescara a Ternum con i responsabili a iniziare da Giuseppe Di Giovacchino l'urologo ormai di fama nazionale e con il dottor Vincenzo D'Antuono Parliamo di questa serata a Delice al ristorante Un Passo dal Mare Com'è andata? Mi è andata benissimo nel senso che in pratica sono state ripercorse tutte quelle che sono le parole chiave della nostra anche Accademia della Cucina la stagionalità, la territorialità e anche la biodiversità abbiamo riscoperto un pochettino quelli che sono gli antichi saperi e sapori della nostra tradizione culinaria e devo dire che abbiamo riassaporato dei cibi che probabilmente sono un pochettino diventati un po' rari però ecco dalla pecora alla callara fino al cappone le virtù le virtù quindi sono tutti cibi tipici diciamo un pochettino anche dell'area vestina perché l'area vestina prima era sotto l'influenza terramana e sappiamo quanto sia importante la cucina terramana come scuola appunto della cucina abruzzese hanno fatto passerella tanti piatti storici tanti piatti che hanno fatto la storia del territorio ma al di là dei risultati finali dottor D'Antuono cosa l'ha sorpresa? quello che mi ha sorpreso ma diciamo che lo sapevo anche è l'impegno che hanno messo i concorrenti la preziosità dell'amore che hanno messo perché anche questo è un ingrediente formidabile la gioia di partecipazione la gradevolezza di confrontarsi amichevolmente tra di loro non c'è stata una competizione di quelle sfrenate ma c'è stata una competizione per il piacere e il gusto di farlo e questa resa ancora più saporito questi piatti che non devono essere considerati solo piatti della tradizione ma devono essere considerati dei preziosi tesori della struttura culinaria della società abruzzese per la cronaca ha vinto l'ana tra l'arancia di Rita e di Nicolantonio davanti al cappone ripieno di Maria Angelucci risultato giusto secondo il dottor Di Giovacchino? ma chiaramente erano tutti buoni diciamo abbiamo mangiato veramente di tutto diciamo tutto il meglio possibile che devo dire a me piacciono un pochettino più i sapori della tradizione per cui il cappone l'ho gradito particolarmente però non posso diciamo sottacere il fatto che l'anatra era altrettanto buona ecco come avete trovato gli abbinamenti con i vini firmati Schar di Città Sant'Angelo e Costantini appunto di Città Sant'Angelo diciamo che ogni vino è stato adatto alla pietanza che ci è stata portata a tavola per quanto riguarda le pietanze non vorrei parlare di competizione forse non c'è stata una vera e propria competizione nel senso che ogni piatto aveva la sua specialità la sua gradevolezza poi considerando che il palato di ognuno di noi già era diciamo consumato dal sapore del piatto precedente allora diciamo aggiungiamo che il vino è stato quel qualcosa in più che ha consentito di staccare da una pietanza a un'altra e di poter concentrarci su quel sapore su quella delizia su quella preparazione Elice, ristorante un passo dal mare con i giurati l'attrice e regista Franca Minucci lo storico Marzio Maria Cimini per commentare questo risultato vittoria per l'anatra all'arancia di Rita di Niccolò Antonio davanti al cappone ripieno di Maria Angelucci che gara è stata? lo chiediamo prima di tutto a Franca Minucci intanto una gara importante questi sono cimentati insomma due animaletti da cortile molto interessanti anzi neppure tutti da cortile perché l'anatra già è un animale un pochino più diciamo sfizioso e abbiamo riassaggiato e riassaporato veramente dei sapori antichi anche il risultato di una lenta cottura di una lenta come dire insomma lacerazione e macerazione del prodotto perché loro sono ancora ai tempi antichi ci diceva che il cappone per esempio aveva avuto quattro ore di cottura quindi è stata già una cosa come dire molto pregiata e preziosa e questo è il luogo dove noi riascoltiamo riassaporiamo diciamo delle antiche degli antichi profumi, antichi odori, antiche tradizioni sono loro le nostre diciamo casalinghe che possono ancora detenere questo potere quello di proteggere il nostro cibo e quindi la nostra storia cosa l'ha colpita di questa gara, di questa serata? ecco, oltre ai sapori che certamente sono centrali in una gara di cucina, in una valutazione di una giuria io vorrei porre l'attenzione sul gesto, sul lato che la cucina casalinga rappresenta è una cucina lenta, è una cucina molto artigianale è una cucina che non ha... slow molto slow, molto slow e non ha soprattutto le stesse, gli stessi movimenti tecnici la stessa manualità che invece per esempio le grandi cucine, i grandi chef impongono intorno ai loro fornelli quella delle casalinghe è una cucina fatta di piccoli gesti di piccole porzioni, di appunto di cotture lente è l'atto, è il gesto del cucinare che ha una valenza superiore quando si parla di cucina casalinga spesso è fatto anche di riciclo, di recupero di prodotti quindi anche in questo, oltre che ai gesti, ai tempi che sono lenti, che sono meditativi che sono di un altro mondo ed è questo che noi sentiamo dentro un cibo è tutto questo che ce lo fa apparire così prezioso e pregiato Siccome se ne è parlato oggi, cosa ha vinto? L'innovazione o la tradizione in cucina? Beh, in questo contesto l'innovazione è un convitato di pietra Noi rifugiamo l'innovazione Questo è l'inattualità, assolutamente Noi vogliamo la tradizione Io dico sempre che il maggiore ingrediente in cucina è il tempo Se manca il tempo ecco, in questa lotta di animali da cortile in questa lotta sull'aia non soltanto il cappone è stato lungamente cotto ma come ci diceva Maria Angelucci il cappone gli ha tirato il collo lo ha fatto dissanguare lo ha spiumato cioè sono tutti gesti cioè quello che noi abbiamo mangiato non è il pezzo di carne che andiamo a comprare dal macellaio che è molto comodo ma noi abbiamo mangiato un rito molto più risalente molto più grande del semplice mangiare del semplice cucinare Oggi insomma, Franca Minucci, vi siete divertiti mangiando? Assolutamente sì insomma, noi siamo qui anche sempre con questo spirito viviamo veramente un'atmosfera di grande gioiosità insomma, siamo molto felici di far parte di questo gruppo di lavoro diciamo così al ristorante un passo dal mare di Elice vince il campionato italiano della cucina per Casalinghe la signora Rita di Niccolantonio con il piatto anatra all'arancia secondo posto per Maria Angelucci con il cappone ripieno terzo posto per Fernando di Iorio con la pecora alla Callara che serata è stata? questa patrocinata dall'amministrazione comunale sindaco Gianfranco De Massis sì, patrocinata sempre dall'amministrazione comunale ormai da anni, saranno ormai oltre dieci anni dodici per la precisione dodici ecco due anni di fermo causa Covid stai puntualizzando sì, effettivamente siamo stati fermi due anni il motivo lo sappiamo tutti finalmente diciamo ecco così adesso è una situazione, un periodo un po' più tranquillo possiamo riprendere questo percorso un percorso molto importante per i nostri territori per far conoscere le nostre specialità per far conoscere tutto ciò che le nostre casalinche sanno realizzare in cucina sui fornelli il nostro territorio come ho detto prima io anni addietro ho cercato insieme alla mia amministrazione di difenderlo proprio con le mani e con i piedi con le unghia per fare in modo che attività che non centrano niente con i nostri territori che si insegnassero parliamo di naturalmente di insegnamenti che parla di rifiuti non perché sono contrario io sono a favore naturalmente della raccolta differenziata in modo tale da poter così non in quel modo ecco non in quel modo assolutamente perché i nostri diciamo ecco nelle nostre aree nelle aree interne noi abbiamo le colline abbiamo le nostre specialità abbiamo le nostre culture zone incontaminate zone incontaminate esatto quindi abbiamo i nostri prodotti che poi le nostre casalinche a sua volta trasformano in tantissime specialità buone ottime e naturalmente come dicevo prima questo percorso dovrà continuare ma cosa ha avuto di più l'anatra all'arancia rispetto al cappone ripieno beh vabbè sono due piatti completamente diversi poi dipende dai gusti è ovvio che c'è stata sicuramente una giuria che ognuno di loro ha dato il proprio voto e alla fine ha vinto l'anatra ma senza dubbio nulla a togliere le altre le altre casalinghe o casalinghi che hanno che si sono cimentati sui fornelli a così a farci conoscere qualche piatto di tutto insomma di tutto rispetto è stato una bella serata sindaco però io vorrei approfittare dell'occasione per fare un po' il punto della situazione si sta per chiudere un anno molto difficile il 2021 che anno è stato per Elice e per la sua amministrazione beh il 2021 diciamo che è stato ormai il primo anno di questo terzo mio mandato abbiamo cercato di riprendere il percorso un percorso avviato già dal presente mandato stiamo portando a termine tutti quei progetti iniziati così come tante opere pubbliche il rifacimento del cimitero abbiamo realizzato rifacimenti di mandi stradali siamo ormai in traiettoria d'arrivo con l'appalto del castello il rifacimento della chiesa di San Martino e così così come tante altre opere che stiamo portando avanti questo naturalmente per quanto riguarda le opere pubbliche per quanto riguarda invece sul sociale abbiamo ripreso la colonia dei bambini però c'è ancora molto da fare perché con gli anziani non abbiamo cioè non siamo riusciti a fare più di tanto abbiamo fatto una piccola colonia per gli adulti come abbiamo fatto ormai facciamo da oltre dieci anni però tante gite tanti avvenimenti tanti appuntamenti purtroppo non siamo non siamo riusciti a portare a termine questo per via del covid c'è ancora tanta paura però facendo un po' di attenzione possiamo ancora possiamo tranquillamente svolgere una vita diciamo così regolare quali sono gli auguri per l'imminente festività natalizia da parte del sindaco Gianfranco De Massis all'intera collettività beh il mio augurio per le prossime feste è un augurio molto semplice ma soprattutto di rispetto di rispetto tra di noi per le nostre persone per le nostre famiglie per noi stessi e soprattutto per tutti coloro che ci circondano purtroppo dobbiamo convivere ancora con con tutto ciò che siamo in questo periodo stiamo affrontando sperando che prima o poi questo covid se ne vada così tranquillamente per conto suo in modo tale da poter tornare veramente tutti alla normalità però naturalmente così possiamo possiamo ancora ancora svolgere una vita diciamo così piuttosto tranquilla quindi tanti auguri a tutti un felice Natale e anno nuovo Lanfranco D'Alessio Viniciar in giuria ma che gara è stata da un punto di vista strettamente tecnico? Strettamente tecnico le casalinghe sono bravissime io avrei dato spazio anche alle scuole alberghiere che secondo me sono testimoni della nuova tradizione quindi queste casalinghe dovrebbero prodigarsi andare nelle scuole e diffondere la nostra tradizione i suoi vini hanno accompagnato i piatti in gara ma che vini avete portato qui a Elice? un rosato molto strutturato nuovo è un Montepulciano riserva 2015 come sono stati abbinati con i piatti in gara? con alcuni rosato era all'inizio andava bene il rosso su qualche piatto strideva forse ci voleva il rosato però alla fine andava tutto bene hai per caso la passione per i fornelli? iscriviti gratuitamente al campionato della cucina per casalinghe chiama ora il 337 91 71 11 o visita il sito campionatoitalianodellacucina.com ti divertirai cucinando